Grandi campioni di scena, non si dice, comunque se vincono altro che premio speciale, super 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 premio e hanno già dato tantissime soddisfazioni quest'anno i ragazzi, oggi è ovviamente la gara di casa ma veramente casa perché non solo parte qui da Eulopo e passa anche vicino a casa mia Morosolo quindi è una gara che sento tantissimo, sono contentissimo, solo due anni fa di ciclismo non ne capivo niente insomma siamo arrivati a far partire una gara qui da Busto e spero che il ciclismo e lo sport, i laghi e questo voler praticare questo bellissimo sport insieme a una sana alimentazione convinca sempre due persone così vi è meglio Voi fate pubblicità anche per il calcio, per trasmettere le partite? A calcio quest'anno è nato sulla piattaforma streaming di Dazon, io non sono un grande appassionato di calcio preferisco gli sport di fatica, dove bisogna sudare, quindi io vengo dal mondo della corsa a piedi poi sono passato al ciclismo e noi portiamo avanti questo genere di sport, secondo me sono un po' più sani sento a nulla togliere il calcio, però sono più, sono più quegli sport di fatica un applauso a Luca Spada e ai ragazzi dell'Aerolo Cometa